Ciao a tutti cari amici e amici di TikTok, oggi parliamo di corazón, di cuore, di sentimenti vediamo anche in senso generico per poi magari andare anche più nello specifico la situazione diciamo passata, presente e futura dal punto di vista sentimentale quindi dal punto di vista di cuore, ok? quindi vediamo un attimino che cosa ci esce, ovviamente questo è un messaggio collettivo non può valere per tutti, però può essere molto valido per la maggior parte di voi che siete qui all'ascolto allora vediamo, vado a pescare poi tre carte e poi vado a girarle questa è la prima carta questa è la seconda e questa è la terza carta poi ovviamente se volessi avere degli approfondimenti in più andrò a chiedere alle carte partiamo dalla prima carta abbiamo la relazione karmica allora qui, cari amici, voi vi portate dietro dal passato una relazione di tipo karmico scusate l'oscurità ma c'è quasi un temporale in azione quindi le ante della finestra si aprono e si chiudono comunque è bello anche questa atmosfera stiamo dicendo che siamo di fronte a una relazione karmica la relazione karmica è un legame che ha origine comunque dal passato tra due persone che hanno diciamo un conto doloroso in sospeso quindi questo è un rapporto che porta che porta alla luce problematiche magari di un'altra vita e lo scopo di questa relazione, di questo incontro è proprio quello di imparare quello di crescere quello di guarire tutti quei vissuti negativi che voi come partner oppure entrambi i partner hanno contribuito a creare all'interno della relazione ma proseguiamo con la lettura abbiamo la carta della camera che cosa vuol dire questa carta? alcuni di voi avranno l'opportunità anche di iniziare magari una nuova relazione però la camera proietta indietro, proietta sul passato quindi è come se alcuni di voi fossero ancora diciamo legati a una situazione del passato magari un rapporto passato chiuso ma fondamentalmente dal punto di vista energetico sottile c'è un qualcosa che ancora grava grava e che graverà ancora su un nuovo rapporto quindi è come un circolo vizioso è come quasi un cane che si mangia la coda quindi è come se voi inizierete una nuova relazione però fondamentalmente non avete ancora chiuso la vecchia relazione e quindi è come il fatto di ripetere un nuovo c'è un vecchio schema uno schema del passato quindi è come se attrarrete a voi un nuovo partner che da puntista di caratteristiche, di attitudini, di comportamenti va a ricordarvi molto il precedente partner quindi questo è molto importante e deve far riflettere ma vediamo l'ultima carta abbiamo la carta della spada e della rosa qua sicuramente nel breve periodo si farà chiarezza su un rapporto magari anche una verità salterà fuori qua sicuramente la spada e la rosa rappresentano l'idea di equilibrio tra la forza e la vulnerabilità il potere e la bellezza quindi è importante ricordarci che la nostra forza e il nostro coraggio devono essere diciamo mitigati dalla compassione e dalla gentilezza quindi si lavorerà anche su questi aspetti per cercare di anche salvare il salvabile per cercare di dare dei connotati diversi al rapporto un abbraccio di luce a tutti voi alla prossima